Tutto pronto per l'avvio dell'entrata sul parquet dei protagonisti di questa serata Musumeci e Tony Dandelli, i due capitani, sono lì nel mezzo a parlare con gli arbitri che saranno Galante, Bezzuto, Parrella, Il Crono, Ursi, quindi davvero tutto pronto per vedere questa gara 2 Ieri Borrutto a un certo punto ha messo il turbo alla partita e è gol C'è subito il vantaggio, andiamo anche a rivedere il grande entusiasmo, davanti a noi c'è la panchina della Meta Catania Questo è Osico che va a dire ecco io sono della Meta Catania, c'è l'orgoglio Andiamo a vedere Osico, punta Borrutto e va a fulminare subito Miarelli, il vantaggio Meta Catania Curaia, non salta gli avversari, allora Cuzzolino, scarico all'indietro, Taborda Si va da De Oliveira, De Oliveira fa proseguire, Taborda E il pareggio dell'Ital Service Pesaro, sorpreso ancora una volta Mambella, l'1-1 dell'Ital Service Pesaro, questa è la concentrazione di Pulvio Colini Questo gol è importante per far ritornare al centro della partita la squadra pesarese Musumeci, Rossetti, palla sul destro, arriva il gol del vantaggio della Meta Catania con Italo Rossetti La felicità dei giocatori di Salvo Samperi, se la ride l'allenatore catanese Andiamo a rivedere l'assist proposto da Musumeci e poi vedete che l'ultimo tocco è di Baisel Sul tiro dalla distanza Bravi, in fase difensiva quelli della Meta Catania Prova a partire Fabinho, errore Cuzzolino, il pareggio dell'Ital Service Pesaro Su un errore da parte della Meta Catania Un passaggio imperfetto, si è inserito Cuzzolino Per il 2-2 dell'Ital Service Pesaro E' sempre presente, se tu fai un errore, in questo caso Fabinho ha fatto un passaggio con un po' troppa leggerezza Cuzzolino è intercettato E Cuzzolino si ha la possibilità di calciare in porta E' uno dei giocatori più letali del campionato italiano La ricezione della palla e quindi l'efficacia dell'azione Borruto Borruto va a mettere il sigillo 3-2 Due minuti dall'epilogo di gara 2 Scudetto La felicità di tutto il pala Nino Pizza E questo è Borruto Altra giocata delle sue 3-2 A favore dell'Ital Service Pesaro La partita è finita La festa può iniziare Ital Service Pesaro, campione d'Italia 2021 I gol di questa partita Osico e Taborda Primo tempo nella ripresa Baisel, Cuzzolino e Borruto 3-2 finale a favore dell'Ital Service Pesaro Gli applausi di tutti Di tutto il pubblico e anche di tutti i componenti Della Ital Service Pesaro All'indirizzo della Meta Catania Seconda classificata Stagione 2020-2021 La Coppa viene alzata da Capitano Tony Dandell L'Ital Service Pesaro è campione d'Italia 2020-2021 Gara, la nostra scuola per questa città Lui, la moglie, scuola Marilene, tutta la mia Lui, la nostra scuola per questa città Lui, la nostra scuola per questa città Lui, la nostra scuola per questa città